Sono tanti gli eventi inseriti nel calendario di rigenere estate 2022 del comune di Caltanissetta, torna infatti il settembre nisseno. Si parte dagli appuntamenti come bailando nei quartieri tutti i giovedì iniziando dal 7 luglio fino al 15 settembre. E poi tanto teatro, musica, passando per il Sicily Food Fest e Marie Crio Music Fest che allieteranno i nisseni tra cibo e musica in piazza Garibaldi dal 2 al 4 settembre. E poi ancora l'attività fisica con la Notte Bianca dello Sport il 10 settembre. Proseguono anche gli incontri del Festival Miniere e la rassegna comici dalle gare. Ci saranno convegni, performance di danza, arte, tornei e gare sportive e tuffi nei ricordi come la Corsa dei Camerieri. Il calendario poi si chiuderà a novembre, per l'esattezza il 5 e 6 novembre, con una competizione di kart circuiti cittadini a G-Sport.